Ciao, ora che ho la vostra attenzione posso fare il mio primo video per Instagram televisione. Bene, oggi voglio fare un tutorial che consiste nel mostrarvi come faccio io un Instagram post, come diventare famosissimi sul web. Guardatemi mentre lo faccio, allora io l'altro giorno ho postato questa foto di me. Vorrei riemularla nel presente. Molto divertente. Sono accorto che devo farmi la barba perché nella foto non ho la barba. Devo sbrigarmi assolutamente perché sono quasi le 8 e devo pubblicare perché è l'orario di affluenza maggiore. Bene, direi che il risultato è buono. Questo era un tutorial su come diventare influencer e potete diventarlo anche voi, è molto facile anche e arriveranno altri...